Giorni concitati per Sulmona e la Valle Peligna, all'indomani della nuova ondata di maltempo che ha provocato non pochi danni sul territorio e una nuova colonna di fumo a lanciare l'allarme. Nella tarda serata di ieri un incendio infatti si è sviluppato nell'ex stabilimento Lastra divenuto successivamente Italfinish. Ancora ignote le cause che hanno provocato il rogo. Nell'azienda chiusa nel 2011 stavano lavorando gli operai di una ditta abruzzese che hanno lasciato lo stabilimento alle ore 18 circa. L'incendio a quanto pare si è sviluppato due ore più tardi. All'interno della fabbrica ci sono macchinari dismessi di plastica. La colonna di fumo al momento non desta particolare preoccupazione, anche se si dovrà valutare l'entità del danno ambientale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Sulmona, coadiuvati da quelli dell'Aquila, i carabinieri e la polizia. Presente sin da primo momento il sindaco Peppino Ranalli, accompagnato dall'assessore comunale Stefano Goti. I due si sono sincerati subito della situazione. Grazie a tutti.